Lois, è tornato il cane che ha gli occhi di due colori diversi. Ah, che schifo, guarda, ha pure un'erezione. Dai, lascialo stare. No, di questo ha parlato Bob Barker in tutti questi anni. Forza, vattene via, cagnaccio arrapato. Ehi, guarda chi si vede. Ryan Reynolds, che ci fai a casa di Cleveland? Strano, ma vero hanno deciso di girare il mio film a Coag invece che a Newport. Faccio la parte di Hitler, ma del giovane Hitler. Siccome ha un corpo mozzafiato, si chiama Sex Hitler. Ah, appena esce lo vado a vedere di corsa. Che forza, siamo vicini di casa, dobbiamo stare un po' insieme. Sì, è fantastico. Scusa, mi sento un po' in imbarazzo. Me ne sto qui fuori a torso nudo e i pantaloni di questo pigiama hanno la vita vergognosamente bassa. E un po', quanto guadagni? Abbastanza da permettermi una camicia, giusto? Senti, stasera do una festicciola di benvenuto, perché non ci vieni? Sì, con piacere. Sempre meglio che stare a casa mia il venerdì sera. Ehi, che state combinando? Questa è la mia serata del libro, Peter. Unisciti a noi. Oh, ok!